Siamo in compagnia di Rosa Giuffre, consulente di comunicazione e blogger, autrice del blog Futuro Semplice. Rosa, ciao innanzitutto. In questa sera stai tenendo una serie di seminari qua all'ENAIP di Cantù sui social network. Come stanno andando? C'è partecipazione? Sì, assolutamente. Devo dire che è proprio bello vedere persone che magari partono anche da zero, che sono incuriosite da questo mondo e che piano piano, con calma, passo dopo passo, entrano e capiscono soprattutto come comunicare, che è la cosa principale. Prima di fare, imparare a comunicare. Come è nata la tua passione per i social network? Allora, prima dei social network arriva la passione per la comunicazione. Io ho proprio un'urgenza di dover comunicare, anche la scuola che ho fatto, ho fatto l'istituto d'arte proprio qui a Cantù, lo dice. Ho fatto un percorso di studi standard, sono laureata in comunicazione e marketing e poi ho capito che il mondo dei social poteva darmi quello che mi mancava, cioè la connessione con le persone, il feedback diretto. Ho iniziato a interessarmi di questo mondo in maniera personale, aprendo il blog, appunto. Nel 2012 me lo sono regalato il giorno del mio compleanno e da lì piano piano ci ho messo proprio il naso. Io ho iniziato quotidianamente, ho iniziato a seguire persone che mi hanno fatto imparare tanto perché è una cosa bella sui social network è che vinci nel momento stesso in cui dai più valori, nel momento stesso in cui condividi il più possibile. E questo mi ha fatto veramente imparare tanto. Ho partecipato a degli eventi, sono andata a dei workshop, ho studiato anche tanto, devo dire, anche se non si è mai finito di imparare e studiare perché ogni giorno bisogna imparare. E quindi eccomi qui, insomma, sono ritornata ad essere consulente in pieno, faccio quello che mi piace. Credi che siano utili a tutti i social network? Come per esempio una persona anziana o un bambino possono approcciarsi? In che modo può essergli utile? Allora, partendo dalla persona anziana lo è sicuramente, se viene utilizzato. Faccio l'esempio di una signora anziana che conosco, che ha imparato ad utilizzare Facebook, ha iniziato a condividere le proprie poesie, queste poesie sono piaciute e ha trovato anche qualcuno che in self-publishing, quindi anche in maniera molto economica, ha pubblicato queste poesie. È un esempio bellissimo, quindi puoi anche tu condividere e trovare anche delle nuove amicizie. Ovviamente ha trovato un modo personale di poter utilizzare i social network. Per quanto riguarda i bambini e mi permetto di allungare anche agli adolescenti, il discorso invece è molto più serio. Innanzitutto ci vuole ed è necessaria una cultura che parta dai genitori, dalla famiglia e da un'educazione al mondo social, ma soprattutto un'educazione alla cultura digitale e a come comunicare in rete che deve partire, secondo me, anche integrando scuola e tutti i processi che questi ragazzi devono imparare. È facile entrare nei social network, ma non è facile gestirli e ci sono anche dei pericoli. Quindi sui bambini io sinceramente non dico di no definitivamente, per alcune cose potrebbero essere utili a livello scolastico, ma sempre comunque accompagnati. Quindi anche qui la positività dei tuoi seminari per istruire gli adulti, diciamo. Assolutamente sì. L'emergenza che io trovo oggi è proprio questa. Il fatto che, come ho detto prima, più che il fare è importante imparare come comunicare, oltre che come comunicare, come non farlo. Purtroppo ci sono tanti esempi anche di mala comunicazione di persone che non sanno utilizzare i social network in modo costruttivo e soprattutto positivo. Anche in questi giorni c'è stata una campagna a livello nazionale. Perché? Perché la violenza verbale, l'odio può essere espresso anche attraverso la comunicazione scritta e attraverso anche i social network. E questa cosa è un fenomeno che deve essere comunque, a mio avviso, controllato anche attraverso i social. Assolutamente. Comunicando attraverso i social, non perdiamo la capacità di comunicare faccia a faccia di persona? Allora, esistono delle psicopatologie correlate. Non posso dire di no, sarei falsa. Però io ti dico di no, perché se lo sai utilizzare correttamente, quindi se ti sai equilibrare tra l'online e l'offline, che oggigiorno è quasi impossibile dividere, grazie ai social network hai la possibilità invece di creare tantissime relazioni e di crearne nuove. La questione fondamentale è la selezione del tuo networking e il saperli utilizzare, sapere delle persone delle quali potresti o non potresti o non dovresti fidarti. Il 99% dei miei clienti mi hanno scovato su internet, sui social. Tantissimi miei nuovi amici li ho conosciuti grazie ai social network. Ti lancio una provocazione presa dal web. Con internet la tua individualità si annulla in una individualità collettiva e se non ne fai parte ti senti escluso? Ma io non credo. Dunque, c'è un fenomeno che è quello delle community, che è molto positivo, nel senso che le persone hanno bisogno di aggregarsi, quindi questo è un fenomeno proprio sociale e sociologico fin dai tempi. Le persone hanno bisogno di associarsi, di trovarsi, di ritrovarsi anche, di connettersi per tipologia di contenuto. Però questo non significa che tu ti devi annullare. Anzi, saper utilizzare correttamente i social network e le dinamiche comunicative ti porta anche a sviluppare quello che dovrebbe essere il tuo personal branding. Si chiama di personal branding, si dice proprio personal branding, quindi personale. Le persone, i personaggi che sono spiccati di più online, adesso vogliamo fare esempi magari visibilissimi, Clio Makeup, Fedez, ne abbiamo portati qualche esempio anche durante i corsi, no? Chi sono? Sono persone che hanno utilizzato i social non per annullarsi, anzi, al contrario, per dare valore, creare valore e crearsi anche un proprio percorso personale. Un'ultimissima domanda. Sai trovare un limite, un difetto alla social network? Allora, io qui mi riallaccio a un grande maestro che è Rudy Bandiera, che dice che ai social mancano due cose, lo spritz e gli abbracci. E secondo me ha assolutamente ragione. Grazie, dopo questa abbiamo davvero finito, hai ribattuto a tutto, direi. Ci ringrazio. Grazie a lei. Ciao, ciao, vi aspetto su futurosemplice.net